Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, siamo al terzo turno del Qatar Masters e dopo la sconfitta di Carlsen e le sue lamentele su Twitter, oggi sono già cambiate diverse cose. Intanto Carlsen e Nakamura giocheranno in due postazioni fisse, in caso di sconfitta non possono retrocedere di scacchiera, in pratica sono i due VIP del torneo. Inoltre nella sala di gioco non c'erano più spettatori, sono spariti anche gli smartphone e in piedi troviamo solo giocatori oppure personale autorizzato come ad esempio gli arbitri. Un'altra notizia importante è il fatto che il ragazzo che ha battuto ieri Carlsen, Suleymanov, oggi si è presentato senza orologio, non è mai stato meglio nella sua partita, quindi una partita a senso unico e l'ha persa. Giocava però con i pezzi neri, comunque potrebbe essere indicativo, non lo so. Quindi la situazione sembra essere rientrata. Vi faccio notare l'influenza che ha Carlsen nel mondo degli scacchi. In pratica è bastato solo un tweet e gli organizzatori hanno consentito a tutte le sue richieste. Allora andiamo a vedere questo terzo turno. Prima di iniziare ricordo a tutti di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale, grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo. Ok, eccoci qui. Al terzo turno Carlsen affronta con i pezzi bianchi il maestro internazionale Mutaya. 2470 punti e lo fide quasi 400 punti meno di Carlsen praticamente. Carlsen apre con E4. Mutaya risponde con E5. Segue cavallo F3, cavallo F6. Rientriamo nella difesa Petrov. Il nero sceglie un approccio solido. Carlsen cattura il pedone in E5. Segue D6, cavallo F3, cavallo per E4, pedone D3. Carlsen attacca il cavallo. Il cavallo si ritira in F6 e poi gioca pedone D4. Rientriamo in una variante della difesa Petrov chiamata attacco francese. Mutaya gioca pedone G6, la mossa migliore. È pronto a fianchettare l'alfiere. Carlsen sviluppa l'alfiere in D3 ed è pronto ad arroccare. Segue alfiere G7 appunto. Arrocco, arrocco. Entrambi mettono il real sicuro. Carlsen continua con H3, una mossa molto tranquilla. Controlla la casa G4, impedisce all'alfiere di essere sviluppato in G4. Mutaya allora gioca a pedone B6. Segue C4, alfiere B7. Il nero opta per il doppio fianchetto. Qui siamo già fuori teoria. Rientriamo in una posizione equilibrata, giocabile. Carlsen sviluppa il cavallo in C3. Il nero gioca torre 8, torre su colonna aperta. Carlsen sviluppa l'alfiere in E3. E Mutaya gioca cavallo D7. Come vedete, entrambi stanno cercando di finire lo sviluppo. Carlsen continua con torre a 1. Segue H6. H6 è la prima mossa strana in questa partita. In effetti, il bianco non stava minacciando niente. Quindi è una mossa che in realtà non serve. Con questa mossa, il nero intende controllare la casa G5. Per non far giocare alfiere G5 o cavallo G5. Carlsen continua con D5 invece. Blocca la diagonale all'alfiere. Chiude la strada. Mutaya salta con il cavallo in C5. Attacca l'alfiere a campo chiaro di Carlsen. Carlsen lo ritira in C2. E segue il pedone C6. Con C6 il nero vuole riaprire la diagonale all'alfiere. Lo vuole riportare in gioco. Segue donna D2 per Carlsen. Attacca H6. E Mutaya qui ignora questo attacco. E cattura il pedone in D5. Segue pedone per D5. Cavallo E4. Cavallo per E4. Cavallo per cavallo. Alfiere per cavallo. Qui seguono tutta una serie di cambi. Torre per E4. Alfiere per H6. Carlsen guadagna un pedone. In pratica qui già inizia a stare un pochino meglio. Tutto sotto controllo. Niente a che fare con la partita di ieri dove Carlsen sembrava praticamente un principiante. Invece qui sembra che l'avversario tema Carlsen. Perché? Perché cambia tutti i pezzi avendo un pedone in meno. E ora come vedremo rientra anche in una posizione comunque inferiore. Segue torre per torre. Torre per torre. Alfiere per H6. Donna per H6. Alfiere per D5. E' vero che il nero riprende indietro il pedone ma rientra in un finale sfavorevole. Inoltre Carlsen è il re dei finali. Come li gioca lui non li gioca nessuno. Ora il punto è che Carlsen qui non gioca la mossa corretta. Che era cavallo H2 per giocare cavallo G4 e cercare di attaccare. Ma gioca cavallo D4. Commette un'imprecisione. Mutai continua con donna F6. La mossa migliore. Attacca il cavallo. Mette pressione sul pedone in B2. Sta attaccando anche A2. Carlsen allora ritira la donna in D2. Difende il cavallo. Segue torre C8. Torre su colonna aperta. Carlsen gioca A3. Salva il pedone in A2. Segue A6. Torre E3. Carlsen gioca la mossa migliore. Re G7 per il nero. Cavallo E2. Carlsen gioca ancora la mossa migliore. Sta cercando di coordinare i pezzi. Con cavallo E2 controlla la casa C1. Non permette alla torre ad esempio di dare scacco in C1. Invece la torre qui è molto attiva e quindi può attaccare delle case importanti. Segue al ferro C4. Il nero commette un'imprecisione. Ma in realtà l'idea è quella di catturare il cavallo. Come vedete il nero vuole cambiare tutti i pezzi e parigiare la partita. Carlsen rifiuta. Gioca cavallo G3. Segue D5. Un'altra imprecisione da parte di Mitaia. Cosa sta facendo qui? Beh, in realtà chiude la strada all'alfiere. I suoi pezzi non sono coordinati. Mentre i pezzi di Carlsen sì, sono coordinati. Può fare male Carlsen da questa posizione. Invece con alfiere C4 il nero ha anche bloccato la strada alla torre. Segue pedone B3 per Carlsen. Una manovra che va bene, non è proprio sbagliata. Però il motore preferiva già un attacco. Cercare di attaccare. Alfiere B5 per Mitaia. Carlsen attacca ancora l'alfiere. L'alfiere si ritira in D7. E segue cavallo E2. Mitaia viene con l'alfiere in E6. Arriva cavallo D4. Carlsen centralizza il cavallo. Segue A5. Re H2. Rientriamo in una posizione equilibrata. Mitaia da scacco in F4. Carlsen gioca G3. La donna si ritira in F6. E Carlsen gioca a Re G2. Sembra un finale complicato, no? Ok. Mitaia gioca alfiere D7. Carlsen spinge in G4. Ecco. Ora qui dimostra che vuole giocare per vincere. Perché G4? Eh, in futuro vuole giocare G5. Vuole creare delle debolezze importanti vicino a Re. Segue torre 8. Torre per E8. Alfiere per E8. Donna E3. Carlsen attacca l'alfiere. L'alfiere torna in D7. Arriva cavallo F3. Alfiere C6. Pedone G5. Eccolo lì. Carlsen ora ha creato due debolezze. H6 ed F6. Sta attaccando la donna. La donna si sposta in D6. Carlsen cattura il pedone in B6. E ora ha un pedone in più. Segue pedone D4. Il nero minaccia di catturare il cavallo con scacco e poi di catturare la donna in B6. Quindi Carlsen deve stare molto attento in questa posizione. E infatti gioca Re F1. Una mossa molto forte. Lascia il cavallo in presa. Il nero non può catturare altrimenti cade la donna in D6. Segue RG8. Donna per D4. Ora Carlsen ha ben due pedoni in più. Mutai gioca donna E6. Commette diciamo l'errore definitivo. Però voglio dire due pedoni in più per Carlsen. Un Carlsen che non rischia niente. Un Carlsen che sta sempre meglio. O ha vantaggio abbastanza netto o comunque leggermente meglio. Però sempre meglio. Non rischia assolutamente niente. Una partita completamente diversa da quella di ieri. Dove abbiamo visto un Carlsen irriconoscibile. Carlsen salta con il cavallo in E5. Attacca l'alfiere. Mutai cattura con la donna in H3. Dando scacco. Segue Re1. Donna H1 scacco. Re D2. Alfiere F3. Il nero vuole giocare donna D1 scacco. Carlsen ignora il momento in questo piano. Gioca cavallo D7. Contro attacco. Vuole giocare cavallo F6 scacco e poi scacco matto a seguire. Arriva donna D1 scacco. Re3. Donna per B3 scacco. Re F4. Sono finiti gli scacchi. Mutai ritira l'alfiere in C6. Sapete cosa succede qui? Che Carlsen ha scacco matto forzato in 7 mosse. Wow. Pazzesco. Carlsen gioca cavallo F6 scacco. Arriva Re G7. Cavallo H5 scacco. Re F8. Donna D6 scacco. Re G8. Donna D8 scacco. E Mutai in questa posizione decide di abbandonare anche perché segue scacco matto in 3 mosse. Quindi le uniche mosse che può giocare sono alfiere 8. Donna per alfiere scacco. Re H7. Cavallo F6 scacco. Re G7. Donna G8 scacco. Ecco proviamo a comparare questa partita con quella di ieri. No. Sono due partite completamente diverse. Carlsen qui è molto più sicuro di se stesso. Un Carlsen che non sbaglia praticamente niente. Nel senso che non passa mai in svantaggio. Partita sotto controllo dall'inizio alla fine. Il nero è stato anche bravo perché ha retto fino diciamo nel finale era pari più o meno la partita. Però ecco vince il giocatore più forte. Quello di ieri invece è stato un massacro ragazzi. Quindi io non lo so. So solo che Suleymanov oggi ha perso. Ha perso una partita a senso unico. Quindi non è mai stato meglio. E oggi non c'erano orologi in sala. Non c'erano smartphone in sala. Grazie a tutti per la visione di questo video. Vi ricordo di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima.